La vita inizia e la storia è già finita. Tic-tac i gettoni, tic-tac dentro alle macchinette slot machine, tic-tac, tic-tac, gettoni che non valgono niente, che non ci compri manco un caffè, neanche nel bar delle slot machine. In scena, nella stagione di prosa, Ascanio Celestini, Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Robere, Luisa Ranieri, Compagnia Luca De Filippo, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Paolo Rossi, Lucia Vasini, Tindaro Granata, Lino Guanciale. In scena, nella stagione di danza, Becceva Dance Company, Saburo Teshigawara, Michele Merola, Ater Balletto, Collettivo Cinetico, Sharon Friedman, Parsons Dance, Balletto Jakobson di San Pietroburgo, San Pietroburgo, of Europe, Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, Cristine Opolais, Beatrice Rana, Emmanuel Axe, Angela Hewitt. Abbonamenti in vendita online e in biglietteria. Atena in vendita online e in biglietteria. Abbonamenti in vendita online e in biglietteria. Grazie.